Antonio Gottardo, responsabile regionale Lega Coppa Agroalimentare, Pesca, Alcim. Siamo qui in assemblea a Chioggia con le marinerie di Pila e di Chioggia. Oggi pomeriggio ci sarà l'incontro a Caorle. L'assemblea segue l'incontro di ieri a Roma con il sottosegretario Battistoni, con le associazioni di categoria presenti. Il tavolo a Roma ha dato dei segnali importanti, confortanti, su alcuni aspetti che potrebbero sostenere la categoria in questo momento difficile, molto difficile. C'è malessere, scontento, insoddisfazione e quindi le marinerie avrebbero deciso questa mattina di fermarsi tutta la settimana proprio per monitorare che le azioni proposte ieri dal sottosegretario Battistoni giungano velocemente a compimento. Il credito d'imposta, la disponibilità sui 20 milioni di euro a sostegno legati alla crisi della guerra in Ucraina, l'impegno di presentare un ammendamento per applicare il credito d'imposta nel secondo trimestre e infine un fermo bellico causa-guerra in Ucraina anche per quanto riguarda l'immedità. L'auspicio è che queste cose vengano a breve concluse e portate a termine per dare un ristorno e un'avvocata d'ossigeno a una categoria che è in crisi.